Ma ci sono formazioni come Forza Nuova, come Casa Pound, che corrono in queste elezioni e vogliono entrare in Parlamento. C'è poi chi come Laura Boldrini, la ministra Fedeli era qui qualche giorno fa e si trovava in accordo con lei, chiedono di sciogliere le formazioni estremiste di destra. Lei come la pensa? Ma io penso che una riflessione sul famoso contenuto della nostra Costituzione, che è vietata la ricostituzione del partito fascista, in qualche modo debba essere interpretata nell'attualità. Perché è troppo facile dire che è vietata la ricostituzione di quel partito fascista, senza stare attenti a ritorno di linguaggio, di simboli, di categorie, di progetti che assomigliano molto al fascismo. In questo senso la sottovalutazione è sicuramente preoccupante. Ora io non so se ci sono le condizioni per lo scioglimento, però certamente ci sono le condizioni per la non sottovalutazione. Ora io sono tra coloro che pensa che forse nostalgia del fascismo in questo paese non è mai stata superata completamente. Il problema è che oggi non ci si vergogna più ad essere nostalgici del fascismo, non ci si vergogna più a dire che ai tempi del Duce allora sì che le cose andavano bene. Quindi su questo punto non ci possiamo sentir dire prima di tutto dalla destra che si candida al governo. No, il pericolo non è il fascismo, il pericolo sono centri sociali. A parte che ci sono centri sociali che si ispirano a pensieri di sinistra e ci sono centri sociali non meno pericolosi che si ispirano alle ideologie di destra. Ma io comincerei a dire se una forza politica che si candida a guidare il paese e che sembra anche dai sondaggi che abbia delle percentuali attendibili da questo punto di vista dovrebbe dire parole chiare su questo punto. Se non le dice è un po' sospetto, come è sospetto il silenzio sul problema delle mafie in questa campagna elettorale. Quindi non vorrei che ci fosse una sorta di compiacenza nei confronti di un certo tipo di elettorato e di un certo tipo di pensiero. Bisogna prendere i voti. Bisogna prendere i voti.